è arrivato lui sono scappati tutti sono scappati ma sono nascosti non voglio mica andare in padella giustamente no li portavo a casa nella vasca se c'avevo il retino li portavo a casa e no perché qui va a parte che adesso arriva l'inverno figurati c'è tanto di quell'acqua però hai visto dove siamo riguardato guarda la rotonda della stazione normale è bello ma ma che strada torniamo lì alla scaletta torniamo fuori e andiamo di la verso perché e lo so d'altronde devi fare ma andiamo di là adesso andiamo tutti di là andiamo di là dove c'era l'enduro di là c'è solo bosco radici salite no questo l'unico che l'ha fatto decente è stato il picco guarda ti regalo un lecca lecca Marco portala giù è tua perché non sei capace a scendere per quello ma qua devi andare via dritto sei un batman come buttarla via è un batman perché qua ti incuzzi io questo farei tutto a scendere qua ti incuzzi no ma io farei questo per me è sempre più semplice ma ci ha distribuito lì è più semplice esatto andiamo 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 in su va che gli altri si sono fermati là esatto stavo andando ma la moto la face chi cazzo